ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi io sono fox e oggi parliamo di bms allora voglio rispondere a questo ragazzo che tramite un iscritto al canale si chiama toni tech solar e allora ha fatto una domanda interessante e oggi appunto rispondiamo con un video dedicato perché ragazzi la tematica è complessa e so che tanti di voi hanno lo stesso quesito perciò ho deciso di farne un video dedicato parliamo di bms ok la domanda la leggiamo è il bms come si calcola nel senso da quanti am per ora bisogna prenderlo bene e allora qui inizia numero uno il bms l'unità di misura relativa al bms non è am per ora ok infatti nel commento è scritto male il bms ampere puro am per corrente ok di spunto non capacità am per ora perciò punto 1 il bms ampere non am per ora punto 2 come andiamo a calcolare la potenza che ci serve e per poter scegliere la relativa bms ragazzi non c'è altro modo che fare un calcolo stimato delle potenze che potrai andare a utilizzare nel mio caso nel mio caso ok io ho montato una 150 ampere te la lascio sotto in descrizione e allora io che calcolo ho fatto perché ho montato la 150 per perché numero uno il voltaggio di funzionamento del pacco batterie è un 48 volt nominale massimo andiamo a fare il calcolo 3.5 come tensione massima per 16 arriviamo a 56 volt bene se io moltiplico vi per i ok vi per i e la corrente che io scelto per la mia bms 150 8400 watt bene considerando che io ho un impianto da doppio inverter doppio inverte vuol dire 11 kilowatt ragazzi 11 kilowatt vuol dire che io posso eventualmente ove volessi alimentare fino a circa 11 mila watt di utensili e lavatrice frigorifero forno stufa e condizionatori comunque utilizzatori per 11 kilowatt gli inverter potrebbero sopportare questo picco bene considerando questo io ho detto ma che potenza metto come bms dato che in questo momento quella singola bms mi alimenta due inverter o un inverter io ho preferito abbondare un pochino sulla dimensione della bms infatti 8,4 kilowatt ragazzi è un sovra dimensionamento della bms stessa considerando che il mio appartamento ha un contatore di 3 kilowatt e cioè ragazzi io con 8,4 kilowatt volendo posso anche ricaricarmi senza problemi l'auto elettrica perciò questo ti fa capire cosa ti fa capire che la scelta della bms è una scelta diciamo libera ovviamente meglio più che meno mettiamo il caso che io avessi scelto una bms da 50 ampere se io mi faccio il conto che 50 ampere 56 volt quando è massimo carico per 50 ampere sono 2,8 kilowatt questo sta a significare che se io accendo forno accendo il fondo per i capelli forse già la bms si è spenta perché andata in over current cioè sovraccaricata capito perciò scegli la bms che sia un tantino superiore al tuo impianto fotovoltaico al tuo inverter ok lasciamo stare il fotovoltaico perché il fotovoltaico è un'altra cosa al tuo inverter perché quello è quello che conta meglio un tantino superiore alla portata dell'inverter pertanto ragazzi alla fine non succede nulla perché l'inverter tira dalla bms dalle batterie solo ed esclusivamente quello che voi fate tirare nel senso che se io accendo due lampade l'inverter tirerà dalla bms la corrente giusta giusta per due lampade se io accendo un computer aggiungerà la corrente per il computer se io accendo il forno giustamente tirerà qualcosa in più perché appunto deve dal fronte a quella richiesta di potenza in più perciò tutto lo gestite voi ma sempre comunque io consiglio di sovradimensionare ci sono ragazzi bms anche da 200 ampere da 300 ampere da 500 ampere però onestamente parlando non le consiglierei almeno per questi impianti così anche perché ragazzi perché il mio in un futuro non troppo lontano e avrà due pacchi batterie due pacchi batterie sempre 16 s sempre l'ife più 4 sempre con bms dedicato questo sta a significare ragazzi miei che cosa che io in un futuro non troppo lontano andrò a prendere un'altra bms che tra l'altro già ho eccola qui come dicevo ho già la bms ragazzi ed è questa qui questa è una bella da lì 150 ampere dove leggete la h guarda la h non esiste non c'è la h perché appunto è corrente potenza i terminali una di queste già è sul mio impianto la seconda sempre questa l'andrò a mettere nel mio secondo pacco batterie tu mi dirai fox ma che devi fare con 300 ampere perché nel con nel concreto saranno 300 per i pacchi batterie saranno due da 56 per 300 ampere come corrente massima sono 16.8 kilowatt di potenza cosa dovrò fare ragazzi io stimo di ricaricare l'auto elettrica e per poter ricaricare l'auto elettrica serve potenza ragazzi due di queste più due pacchi batterie più comunque inverter che hanno come potenza massima 11 kilowatt mi aiuteranno a dare la corrente buona per poter ricaricare velocemente non tramite una normale sugo come tanti fanno per ricaricare le auto elettriche a casa no io andrò a fare una linea dedicata una linea con un cavo enorme che parte dagli inverter ovviamente sempre parallelati in quel caso lavorano sempre due inverter si dividono lo sforzo le bms 2 si dividono lo sforzo così da avere l'impianto sovra dimensionato così ragazzi da fare il solletico anche sotto un carico grosso come potrebbe essere la ricarica di una vettura elettrica per qualche ora più ragazzi mi deve alimentare il garage con tutti i miei elettrotensi mi deve alimentare l'appartamento con la mia richiesta quotidiana di tutto ciò che voglio perciò tirando le somme per andare a dimensionare una bms dovete innanzitutto conoscere il vostro impianto e da quello salite l'asticella prendete qualcosa in più come corrente meglio più grande che più piccola mi raccomando a voi qui è già stata fatta la modifica nel foro allargato per essere bloccata sul sulla plancia ecco del usibile niente ragazzi per questo video è tutto dalla bms da lì è tutto da fox ragazzi è tutto ciao belli e al prossimo video